Si ferma allo stadio Vincenzo Presti la scia di vittorie consecutive della Nissa contro l'Atletico Gela di Mr. Peppe Misiti. I biancoscudati non vanno oltre lo 0-0, continuando comunque ad inanellare risultati positivi e mantenere invariato il distacco dall'inseguitrice Licata. Ai padroni di casa il merito di essere riusciti a bloccare la corazzata Nissa è di avere disputato una grande gara senza tanti timori reverenziali e soprattutto senza barricate, cercando anzi per tutti i 90 minuti di mettere in difficoltà l'avversario. Atletico Gela in campo con tre dei cinque innesti arrivati in questa finestra di mercato, ovvero il centrocampista Fayet, il difensore Fama ed il portiere Polessi, quest'ultimo determinante in due frangenti. Ospiti invece che mettono subito in campo il neo arrivato Musumeci. La gara nei primi 30 minuti rimane bloccata e noiosa. Alla trentatresimo ci prova Asia dalla distanza con il portiere Amendola che salva la porta mandando in calcio d'angolo. Sul successivo tiro della bandierina lo stesso attaccante Giororosso tenta una parabola di testa salvata prima sulla linea di porta da Di Maria e poi dalla traversa. Alla quarantasesimo ci prova Zarba con un'azione personale ma viene steso da italiano al limite dell'aria. Punizione ed ancora una volta Asia che fa la barba al palo con un fendente velenoso. Primo tempo che termina così a reti inviolate. Nella ripresa al sessantatresimo ci prova il neo acquisto biancoscudato Musumeci a tentare la via del golla da posizione d'avvicinata ma è strepitoso l'intervento dell'estremo difensore Giororosso Polessi che para distinto. Passano due minuti e l'attatico Gela reclama un calcio di rigore per un fallo in aria su Argetta lanciato in porta ma l'arbitro vede solo una simulazione del terzino Giororosso che viene ammonito. Poco dopo è ancora Polessi a sbarrare la strada alla conclusione di Di Franco. Ospiti che al settantesimo perdono per infortunio Bognanni costretto a lasciare il terreno di gioco anzi tempo al suo posto entra Bevilacqua. Nissa che reclama un calcio di rigore alla settantaquattresimo per un fallo in aria su Di Franco. Alla settantaduesimo un'azione insistita da parte di Navanzino che si libera bene di un paio di avversari servendo Asia ma quest'ultimo calcio ha debolmente sua Mendola che ringrazia. Il tempo di vedere il tiro potente dalla distanza corpalla deviata in angolo da Di Maria che cala il sipario sul match finisce 0 a 0.